Buonasera, sono Michele Saccito, 38 anni, residente del secondo municipio, sono del Movimento da circa due anni. Mi sono sempre occupato dal punto di vista lavorativo di comunicazione, comunicazione integrata e comunicazione aziendale. Ho cercato di portare la mia esperienza anche all'interno del Movimento 5 Stelle e parzialmente ho contribuito fino all'altro giorno dopo aver dato le dimissioni da uno dei tre referenti della comunicazione. Credo che occuparsi della città più bella del mondo, nel Movimento che in questo momento fa respirare più di qualsiasi altra cosa, la democrazia, sia un'esperienza unica. Spero di riuscire ad occuparmi soprattutto di rilancio dello sviluppo delle imprese e soprattutto nell'ambito turistico, che sono le cose del quale ho sicuramente più a cuore e anche più capacità. Vi ringrazio. Grazie. Grazie.